Buongiorno a tutti, sono Claudio Sasso, sono consigliere del Municipio di Milano per il Movimento 5 Stelle. Io insieme ad altri attivisti in questi ultimi mesi ci siamo dati da fare per informarci in merito al referendum costituzionale. Abbiamo organizzato alcuni incontri con i cittadini e altri ne abbiamo in programma. Continuano però ad arrivare continuamente delle richieste di informazioni, domande e chiarimenti in merito a quello che si andrà a votare. Con questo video ed eventualmente con altri che ne seguiranno vogliamo spiegare alcuni dettagli del referendum e alcune tematiche contenute in esso e le motivazioni che ci spingono a votare in un certo modo. Alcuni ci dicono ma perché voi vi ostinate sempre a dire che difendete la Costituzione da qualsiasi attacco, maneggiamento, revisione, come se voi foste palladini di chissà che cosa quando poi non eravate neanche presenti per motivi di età, per motivi anagrafici, quando la Costituzione è stata scritta ed approvata. Apro qua una parentesi. A volte ascoltando alcuni commenti mi chiedo se veramente gli italiani sanno cos'è la Costituzione, qual è l'importanza di questa carta, di questo documento. Anzitutto la Costituzione è una carta che raccoglie i valori in cui un popolo si riconosce. E chi si riconosce in determinati valori ha il diritto e il dovere di difenderla. A volte mi pare di capire che siamo arrivati in un momento storico in cui abbiamo perso il senso, la voglia, la capacità di difendere qualcosa a cui teniamo veramente, che crediamo veramente importante. Io personalmente ci credo, riconosco, che in quella data, in quel voto, è successo qualcosa che è fondante per il nostro paese, per l'Italia. Sì, è vero, io non ero presente il 2 giugno 1946 quando il popolo italiano andò alle urne per scegliere la monarchia o la repubblica. È stata la prima volta in Italia in cui le donne sono andate alle urne per esprimere il proprio voto. In quell'occasione il 54% degli italiani ha scelto la Repubblica e contestualmente ha scelto i propri rappresentanti nell'Assemblea Costituente, ovvero l'Assemblea che avrebbe scritto la Costituzione della Repubblica Italiana. Vi ricordo poi che a quella votazione parteciparono circa il 90% degli aventi diritto al voto, una percentuale di voto altissima che non si è poi più ripetuta nel nostro paese. L'Assemblea Costituente era la fotografia di un paese che usciva dalla guerra. In essa erano presenti diversi schieramenti politici e ognuno incarnava un ideale di società, di Stato, che i cittadini italiani desideravano dopo un ventennio in Fausto. Voglio solo ricordarvi alcuni nomi dei nostri padri costituenti, coloro che scrissero la nostra Carta Costituzionale. Anzitutto Piero Calamandrei, Benedetto Croce, Alcide De Gasperi, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Einaudi, Ugo Lamalfa, Giorgio Lapira, Aldo Moro, Sandro Pertini, Ferruccio Parri, Pietro Nenni, Ignazio Silone, Palmiro Togliatti e tra le donne, una su tutte, Nilde Iotti. Se invece pensiamo a chi sono i padri della nuova Costituente, chi c'è tra di loro? Anzitutto Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Angelino Alfano, Denis Verdini, i ministri Lorenzin, Pinotti, Poletti, i loro sostenitori, Vincenzo Danna, Lucio Barani. I nostri padri costituenti lavorarono circa un anno e mezzo per scrivere la Carta Costituzionale. Si confrontarono e la scrissero insieme. Quella carta conteneva i valori in cui ognuno di loro si riconosceva e i valori in cui gli italiani che li avevano votati si riconoscevano. In quell'anno e mezzo i padri costituenti lavorarono solo sulla Costituzione. Chi invece adesso vuole revisionare la nostra Carta Costituzionale, anzitutto il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ricordiamo che non è neanche stato eletto nel febbraio 2013 al Parlamento. Lui ha fatto il Sindaco fino al 2014, dopodiché è stato scelto dal riconfermato Giorgio Napolitano per guidare una nuova maggioranza. Un programma elettorale che nessuno ha votato si ritrova a governare una nazione e oltre a questo vogliono riformare la Carta Costituzionale. Scusate se è poco. Per puntualizzare alcune cose. Nel febbraio 2013 vinse la coalizione di centro-sinistra. Poco dopo si rendono subito conto che neanche col premio di maggioranza riuscivano ad avere una maggioranza stabile in Parlamento. hanno quindi costituito una coalizione di governo fatta di diversi colori politici però c'è un elemento che è importante che il partito che era SEL che aveva permesso al Partito Democratico in coalizione insieme di ottenere il premio di maggioranza si è poi staccato dalla coalizione. Il principale partito della coalizione che è il Partito Democratico per continuare a governare doveva chiedere supporto ad altri partiti del Parlamento e quindi chi gli ha aperto le porte sono stati alcuni partiti di centro-destra. quindi chi adesso sta governando sta governando con un premio di maggioranza di una coalizione che non esiste più in Parlamento. Praticamente in questo Paese una forza politica quasi inesistente non rappresentativa a livello nazionale riesce a determinare le sorti di 60,8 milioni di cittadini. Quindi questo partito che ha preso il 3% dei voti che se si fosse presentato da solo non sarebbe mai entrato in Parlamento in coalizione col Partito Democratico è entrato in Parlamento ha permesso al Partito Democratico di ottenere il premio di maggioranza e quindi di aver affidato il governo e poi SEL si è tirato indietro rimanendo in Parlamento con il 3% dei voti. La Corte Costituzionale si è già espressa sul voto del 2013 e ha stabilito che il Parlamento non è legittimo quindi siamo governati da un Parlamento illegittimo. Attualmente l'Italia è governata da una coalizione con un suo programma elettorale che prende un po' da destra un po' da sinistra che è stato stabilito con il Patto del Nazareno che i cittadini italiani non hanno mai avuto la possibilità di conoscere questo programma elettorale questo programma di governo e non l'hanno mai non è stato mai sottoposto alle urne e le persone che adesso lo incarnano non lo vogliono attuare vogliono revisionare la Carta Costituzionale quindi capite perché queste persone non ci ispirano alcuna fiducia andate a vedere pure la fedina penale di alcuni ministri indagati ed è uno dei motivi per cui voteremo no al referendum costituzionale